buongiorno siete alla ricerca di un immobile che vi dia la possibilità di parcheggiare uno più auto o che abbia una comoda cantinola innanzitutto mi presento sono franco giulia remax della polare team moncaden partners oggi ci troviamo in una zona storica di bari ovvero sul poggio franco più precisamente di fronte il tribunale ci troviamo in un contesto riservato e signorile tranquillo anche di sera perciò anche una famiglia troverebbe una collocazione perfetta seguitemi l'immobile si presenta in buono stato generale conservativo subito appena entriamo abbiamo un ingresso in disimpegno con l'accesso ad un luminosissimo ed ampio salone che perché no con l'idea di poter ospitare magari amici e parenti non può che far comodo proseguendo nel corridoio abbiamo per ordine le tre camere matrimoniali una delle quali in un secondo momento potrebbe anche diventare uno studiolo proseguendo i due bagni che sono già presenti infine un comodo ripostiglio che potrebbe diventare tranquillamente una cabina armadio ancora da questo lato abbiamo la cucina che come ambiente abitabile il tutto viene reso più luminoso da un esposizione sia con finestra che con porta finestra sicuramente non è facile cercare un immobile in questa metratura ma soprattutto con tutte queste comodità e potrebbe essere il tuo immobile ideale che aspetti a contattarmi grazie